buongiorno a tutti e bentornati qua in un nuovo episodio di minecraft allora vi dico prima un attimo di un paio di cose intanto voglio sapere se siete andati a guardare anche i video che fa il mio amico che oggi non c'è perché è in vacanza e se vi siete iscritti poi voglio dirvi che il mio canale, ho deciso col mio canale che appena arrivo ai 100 iscritti sceglierò a caso uno degli iscritti lo sceglierò a caso e verrà a fare un video qua con me verrà non so deciderò decideremo insieme in che video fare se fare gameplay challenge inoltre quello che verrà avrà in regalo la maglietta del mio canale allora una cosa volevo dirvi che ho avuto dei diciamo dei piccoli problemi cioè la partita con cui abbiamo iniziato questi gameplay non so perché se è magicamente resettata cioè non so proprio apro e non c'è niente cioè non me l'ha salvata proprio non so boh vabbè quindi intanto facciamo partire ok eccoci qui volevo farvi vedere quello che ho fatto nel frattempo ho ricominciato la partita e mi sono trovato in questo mondo dove ho proceduto ho già diciamo ho iniziato a costruire la casa vi avevo detto nel prossimo episodio costruiremo la casa io mi sono già buttato un po' avanti volevo dirvi di iscrivervi anche al canale di Stephanie se lo conoscete che ha fatto molti video su minecraft molto bravo anche e magari qualcuno può pensare qualcuno può pensare eh adesso ci fai vedere la casa così se guardi è come quella di Stephanie si il progetto diciamo è tipo quello però lo sto modificando come vedrete eh confronto a lui ci ho messo un sacco di vetrate perchè sputtate mi metto a spada che ho già rischiato grosso mentre la costruivo praticamente sono caduto dalla sopra quindi ho preso danno da caduta e poi eh vedete che apriamo anche la porta qua non si sa mai oddio ecco eh io stavo tirando giù tutti gli alberi per evitare proprio questo perchè ci sono i creeper che ce n'è uno là dietro il nostro amico creeper che ho scoperto che scoppiano adesso vi faccio vedere ciao 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 no 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 indietro 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 ai dai no dai va bene adesso non salgo più ok ho sentito un rumore comunque come vedete è venuta veramente Tommy ha anche rotto l'albero quindi posso che bella cascatella cos'è stato eh muori 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 no 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 comunque allora ho fatto tutto questo che così posso vedere dall'alto posso vedere dall'alto quello che c'era allora dobbiamo andare a riprendere oddio non mi ricordo no non mi ricordo più dov'ero oh oh ah ho perso tutto oh cavoli non mi ricordo se ero finito là o là dentro oh no l'unica spada che c'avevo ah no lasciato le porte aperte facciamo così andiamo facciamo così dormiamo e così diventa giorno ti prego non è entrata in casa ti prego ti prego ti prego ti prego ok ma dai mi sento troppo vicino ragazzi no ragazzi sono troppo no no sono troppo vicini ok c'è qualcuno qua fuori voilà oh è ancora lì è ancora lì non ci posso credere oddio no 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 aspettiamo che spariscono chiudiamo la porta non spariscono col sole non ci credo no 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 non ci credo cioè io c'ho tutto là fuori e questi non spariscono col sole no 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 c'ho qualcosa qua no dove è finita tutta la roba no no ho perso tutto ok proviamo facciamo un mega sprint finale e almeno che il ragno ha preso c'era uno scheletro qua da qualche parte è troppo vicino troppo vicino troppo vicino troppo vicino troppo vicino io non ho neanche una spada ragazzi ho perso tutto chissà dove dai no 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 ok c'è una mela nel frattempo oh 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 non sei sopra di me però tanto quest'albero dovevo tirarlo giù a prescindere ma è giorno è giorno dovrebbero essere spariti tutti invece sono ancora tutti qua ma dai no cioè no perché ho messo giù il problema è che no 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 era tutto qua era tutto qua no 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 ragazzi diciamo è ufficiale ho perso tutto tutto vabbè non ci credo no no ci avevo proprio tutto qua ci avevo da allora ci salutiamo qui questo episodio per adesso è finito continuerò adesso velocemente a raccogliere riprendermi tutto quello che avevo prima ricordo se volete continuare a vedere questa serie potete supportarmi con dei like e se volete iscrivervi anche al canale diffondere questo canale e ricordate che tutti gli iscritti potrebbero essere almeno uno di questi iscritti potrà essere vincitore di quell'evento che farò ai 100 iscritti poi ne farò uno magari anche ai 1000 iscritti e passa ok quindi ci salutiamo qua buona giornata ciao ciao